Romeo Scaccia, compositore multimediale, unisce sensibilità, creatività e competenza artistica e digitale, che l'ha portato a diventare famoso in Italia e nel mondo, e ha portato queste sue competenze e queste sue sensibilità alla Summer School sui videogiochi, dove ha tenuto il laboratorio di Sound Design. In cosa è consistito questo laboratorio, Romeo? Ho cercato di ricoprire quel campo che un pochino mancava in questo Summer School, che era la parte dedicata all'audio. La cosa interessante è riuscire un po' a giocare, perché noi stiamo giocando, giustamente, con tutti questi elementi, sia con la programmazione, sia con l'utilizzo del 3D, del mapping, del modeling e tutte le varie forme di motori grafici, eccetera, eccetera. Ecco, quello che cercavamo di fare stamattina è di illustrare il concetto di giocare con i suoni e con le musiche e con le composizioni musicali. Ho cercato di dire ai ragazzi che è molto importante curare questo aspetto, perché oltre alla visione, ovviamente mi insegnerete anche voi, è molto importante anche il suono e il suono è di supporto all'immagine. Ci siamo divertiti perché abbiamo scoperto come funziona un'orchestrazione, come funziona melodizzare un'armonia, o avere un'armonia e trovare una melodia da, come dire, arrangiare all'interno di un contesto, che il contesto può essere un qualsiasi prodotto o un qualsiasi progetto multimediale. Mi piace definirmi così multimediale perché mi piace abbracciare tutti i generi possibili, non solo il cinema, non solo il video, non solo il concertismo da un certo punto di vista, ma mi piace proprio giocare con tutti gli elementi possibili, quindi il gioco che ritorna, anche qui è to play, e questa attitudine così, come dire, così speciale, il fatto di avere questa filosofia nel giocare con gli elementi, ma allo stesso tempo trovare la profondità delle cose, questo fa sì che la nostra curiosità si innesca e approfondendo questa conoscenza, possiamo trovare soluzioni sempre nuove, sempre possibili, sempre originali, ecco questo è il motore che spinge, dal mio punto di vista, dall'audio o della musica, a trovare una sinergia con tutti gli elementi che compongono la fase di una progettazione multimediale. E tu stamattina hai proposto una riflessione molto interessante che mi sono segnato qui, che è questo, il videogioco dal punto di vista musicale è l'opera più complessa da gestire, puoi spiegarcelo in pochi minuti? Sì, se ci pensiamo bene, direi che è forse veramente il più complesso, perché di solito su un lavoro lineare, come può essere un film, l'approccio a un documentario o a un videoclip, abbiamo una progressione temporale già ben definita, da una sorta di timeline dove chi assiste alla visione sa già che c'è un tempo di inizio e di una fine. Invece in questo caso in un gioco, il giocatore è lui che decide i tempi, è lui che decide la musica, tra virgolette il tempo della fruizione, dell'azione scenica e questo è difficile da progettare, perché devi dargli un ampio spazio, un ampio spazio di margine, perché devi prevedere, tra virgolette, indirizzarlo ma allo stesso tempo dargli quella libertà per godere la piacevolezza di giocare. E quindi gli spazi sono molto più ampi, perché devi dargli spazio per manovrare e devi progettare in maniera non più lineare, ma a 360 gradi, un po' l'abbiamo visto oggi anche con il virtual reality, l'abbiamo visto anche con la visione della Playstation, oggi abbiamo giocato appunto con la VR e lì ad esempio l'audio è a 360 gradi, nel senso che ad esempio se c'è un oggetto che arriva verso di te e tu giri la testa, il suono viene assolutamente, segue il percorso della testa, quindi immaginate la programmazione e quanto può essere complessa per gestire tutti questi input. A questo punto la domanda cruciale è, ma chi vuole imparare a fare queste cose, cosa deve studiare, in cosa si deve applicare? Torno sempre alla filosofia di prima, bisogna giocare e bisogna scavare in profondità, perché non basta solo la superficialità delle cose, bisogna in tutte le maniere trovare soluzioni e cercare di andare oltre, questo è un principio fondamentale di tutte le cose, una volta che hai la curiosità per qualcosa devi perseguirla, andare in profondità e cercare di trovare un progetto nuovo, di trovare una soluzione nuova, ecco perché la tecnologia va avanti, perché stiamo sempre andando avanti, stiamo cercando sempre nuove soluzioni, questa è la magia di trovare il genio che c'è in ognuno di noi, che però è consapevole e sa che ha fatto quello scalino in più, in modo che tutti possono beneficiarne e tutti possono gioire di questa cosa, quindi è una cosa straordinaria, ecco la completezza e l'andare avanti del percorso che stiamo vivendo. E come hai trovato gli studenti di questa Summer School? Li ho trovati molto interessati, anche perché parte di loro li conoscevo già, mi è capitato di insegnare in altri stage, soprattutto su Media Design e quindi li ho visti molto presi da questo laboratorio. Grazie e complimenti per il tuo lavoro. Grazie a voi.